Le scale di Napoli, i più antichi e suggestivi percorsi pedonali della città, rivivono sotto forma di gioielli nella nuova linea realizzata dal maestro orafo Antonio Petacca. L'idea prende spunto dalle attività che l'Associazione Legambiente Neapolis 2000 da anni mette in campo per la valorizzazione delle oltre 200 scale partenopee. Napoli è una città verticale e la sua forza sono proprio le oltre 200 scale di Napoli che uniscono il patrimonio mondiale dell'umanità che è il centro storico con il grande parco delle colline di Napoli. Abbiamo avviato e abbiamo chiesto un appello a una serie di associazioni che hanno risposto positivamente, tre anni fa è nato un coordinamento e adesso stiamo vedendo i primi frutti. Proprio in questo momento mentre inauguriamo la mostra dei gioielli sulle scale della Pedamentina si stanno svolgendo i lavori di ripristino delle scale. Con le sue forme ricercate Antonio Petacca vuole far percorrere le storiche gradinate di Napoli e lo fa realizzando gioielli unici, pendenti e orecchini che prendono il nome delle più belle scale della nostra città. La Pedamentina, il Moiariello, Monte Santo, la Principessa Iolanda. Hanno forme diverse, dimensioni diverse e si rifanno anche se in modo aleatorio alle famosissime, certo ce ne sono oltre 200 scale a Napoli, però ne abbiamo presi 7, 7 è il numero magico, il numero portafortuna, quindi abbiamo scelto le più belle. L'esposizione, realizzata con la collaborazione dell'associazione Locusiste e Alsolet, è stata inaugurata questa mattina con l'assessore alla creatività Alessandra Clemente e si inserisce all'interno della mostra a forme Il Tempo dei Gioielli. Resterà fino a venerdì 26 settembre al suo rorsola ben in casa e parte del ricavato sarà utilizzato per le attività di valorizzazione e riscoperta delle scale di Napoli. Ci è piaciuta molta questa iniziativa che vuole con semplicità però dare l'opportunità a tanti cittadini ma a tante ragazze e tanti ragazzi di voler scegliere un oggetto prezioso e sapere che contemporaneamente contribuirà ad un progetto concreto per il recupero delle scale della città di Napoli.